Buonasera, dopo questo brevissimo spot pubblicitario riprendiamo la nostra trasmissione. Eravamo entrati nel vivo, abbiamo salutato il nostro professor Giuseppe Quartieri, il nostro fisico e diamo il benvenuto invece all'ingegner Mauro Botarelli. Volevo però Saka lanciare subito un'altra dinamica, proviamo Saka a darle anche ragione, proviamoci a darle anche ragione. La dinamica di questo lavoro che si dovrebbe organizzare su un livello medio-basso, non con tanta tecnologia perché in realtà non conserva tanta occupazione, come potremmo competere a punto di vista delle garanzie sociali con gli altri paesi? Guarda, allora veramente sono un po' sorpreso di questa maniera, di interpretare quel che dico. Ma chi vuol limitare la tecnologia, chi vuol limitare l'innovazione, chi vuol limitare la ricerca, la si mandi al massimo grado possibile, immaginabile. Il problema mio è quello che accennava Russo, togliere una buona volta questi automatismi pericolosissimi, perché se si fida soltanto e ci affidiamo soltanto a questo aspetto, noi avremo maredi disoccupati e disottooccupati, a differenza di quanto si pensi. La robotica elimina nell'industria una quantità immane di lavoratori, questi sono dati statistici, è inutile discutere in teoria che l'innovazione crea lavoro nel campo dell'innovazione. Certo, nel campo dell'innovazione, l'innovazione crea lavoro, la novità, nel campo della novità crea coloro che sono addetti a quella novità, crea lavoro qualitativo quando lo crea. Il problema mio è questo, la occupazione è un fenomeno di massa, noi possiamo creare impegni di elite, di qualità, ma la massa resta disoccupata. Questo è il punto, un robot ti elimina 15 lavoratori e non li sostituisci, con che cosa? È un patto, questi sono fatti, si discute quanto si vuole, ma ci sono prospettive di introduzione, non stanno introducendo la robotica in maniera gigantesca proprio perché non saprebbero che fare dei migliaia di lavoratori. Allora mia domanda, facciano pure, però questo esige una nuova maniera di gestire il profitto, gli orari e l'impresa. In Germania, facciamo l'esempio che faceva l'amico Gualtieri, ma la Germania mica si è limitata a fare i brevetti e l'innovazione tecnologica nel campo dell'industria civile. La Germania ha fatto un'operazione di modificazione del sistema capitalistico che ha dell'incredibile, dove ad esempio hanno abbassato gli orari di lavoro, hanno abbassato i salari. Ecco il punto che dico io, cioè limitarsi a questa fascia tecnologico-innovativa è un errore catastrofico, bisogna riportare l'innovazione al cambiamento della gestione dell'impresa. Facciamo un esempio, se la robotica elimina i lavoratori, inutile illudersi che questi lavoratori trovano lavori in un'altra attività, non lo trovano. Allora che si può fare? Abbassare l'orario di lavoro. Non c'è altra alternativa. L'idea ad esempio dell'abbassamento dell'orario di lavoro è un problema che nessuno vuole affrontare, perché hanno paura delle conseguenze sociali sul profitto che questo ha. Ma tu non puoi avere un massimo profitto contro l'occupazione, perché che cosa sta avvenendo? A parte l'innovazione e le tecnologie, che sta avvenendo di fatto? Sta avvenendo che il profitto ci cerca con la disoccupazione. Io ho più profitto se ho meno perai. Questa è la realtà concreta. Tant'è vero che in Italia stanno facendo quella che tu accennavi, cioè milioni di persone, migliaia e migliaia di persone disoccupate strutturalmente, strutturalmente, attenzione a casa integrazione, cioè non disoccupate un anno, disoccupate a vita. Ora hanno inventato che ti fai il pre-pensionamento, cioè ti pensionano prima. Ma è la stessa cosa. È un'espulsione dal lavoro. Vuol dire che il problema del lavoro nella società altamente tecnologica è un problema reale, che non si risolve soltanto dicendo che la tecnologia e l'innovazione crea lavoro. Non è vero. Io questo ci tengo perché non solo mi fornisco di dati statistici, in Giappone una catastrofe, negli Stati Uniti una catastrofe, ma ci rendiamo conto che negli Stati Uniti hanno dato più denaro, ma si ripete su queste cose o no? Di tutta la storia degli Stati Uniti, in questi 5-6 anni, da Bush a Obama, hanno dato più denaro alle imprese, alle banche di quanto in tutta la storia degli Stati Uniti. Non creano un posto di lavoro. Vivono ogni 3-4 mesi dicendo che è aumentato di 20.000, è aumentato di 2.000. Ma no, il problema è strutturale. Non lo creano, per la ragione che ho detto. Il signor Boderelli, Gli allarmi di Saccà sono... Allora, gli allarmi suoi sono veri, però la considerazione, io la porto ad un livello diverso. Noi abbiamo l'entropia ristretta e l'entropia generale. Ossia, è vero che la tecnologia, i robot fanno quello che gli uomini non fanno, lo fanno automaticamente, lo fanno prima, ma aumentiamo l'incremento del... Qui abbiamo un inquinamento che è arrivato oltre ogni limite. È un'altra questione. No, non è un'altra questione. Se noi vogliamo fare occupazione, dobbiamo fare in maniera che l'entropia diminuisca, l'inquinamento diminuisca. E se l'inquinamento deve diminuire, non devi utilizzare i robot, ma devi utilizzare gli uomini. Però devi capire che cosa stai facendo. Qui a un certo punto è tutto bello. Allora dice, io ho inventato l'eternità, perché prendo un robot, quando si basta un pezzo glielo cambio. Ma questa non è eternità, perché dietro tu hai creato la morte di altre migliaia di strutture che servono per fare questi pezzetti. Quindi è una cosa illusoria. Qui il problema va analizzato in maniera più generale. Quindi effettivamente noi abbiamo bisogno di una maggiore conoscenza scientifica, come diceva Quartieri, ed è fondamentale, perché noi non capiamo quasi niente di come è fatto l'universo, di come è fatto l'uomo, di come è fatto il sistema. Qui abbiamo un sistema di incremento di entropia spaventoso. Ci troviamo di fronte ad un mondo che sta morendo. Se il mare viene a inquinarsi un decimo di più, qui abbiamo grossi problemi. Ci abbiamo problemi, per esempio, adesso nella risposta delle temperature, nella risposta delle precipitazioni. Non sappiamo esattamente da cosa dipendono. E allora c'è chi dice andiamo verso un caldo torrido o altri verso una glaciazione. Se noi analizziamo i tempi precedenti, ci sono stati periodi di glaciazione spaventosi. Ce lo fanno vedere quasi tutte le sere, insomma, nei vari documentari. Noi abbiamo avuto una glaciazione per cui l'Empire State Building a New York il ghiaccio era ancora più alto. Ci sono stati periodi invece in cui le calotte polari non c'erano, non c'era ghiaccio e il mare ricopriva una grande quantità di terra che adesso poi c'erano i dinosauri. Ma perché? Ma qui bisogna spiegarle queste cose. Fondamentalmente, quindi, noi non dobbiamo produrre altro che una maggiore consapevolezza dello stato delle cose per cui noi abbiamo tutti veramente occupati. Perché l'uomo, essendo vivente, ha in sé la capacità di non inquinare. non è una macchina automatica che fa un movimento. E il lavoro non è un sistema automatico di produzione. Produzione di che? Noi abbiamo del cibo che fa schifo, scusami, però insomma. Abbiamo del pane che fa ripreso. Compri il pane il giorno presso è un mattone, non lo prende neanche più, non diventa più neanche muffo. Qui è una cosa grave. Abbiamo del latte che viene preso dalle campagne, ringraziando il cielo, perché i contadini sono stati messi un pochino da parte e però adesso anche loro vengono influenzati da tutte queste strutture di mangiare strano che gli forniscono delle multinazionali. Ci troviamo di fronte a un'innovazione nei semi. L'unica innovazione è che questi semi non producono più altri semi per cui sei costretto ad andare dalla multinazionale a farti dare i semi. Non esiste proprio. Poi a un certo punto arriva l'innovatore e dice ma il grano è troppo alto quando piove si piega e quindi la produzione è minore allora irradiamolo con l'energia nucleare e facciamo un grano migliore ma chi te l'ha detto a te che hai modificato il DNA del grano e ce l'hai migliore. E allora oggi abbiamo un pane ripeto che fa schifo e il comune di Roma per esempio per dire il comune di Roma per ritornare ai problemi che diceva prende delle decisioni che non hanno più senso. qui è il cervello umano che sta andando alla deriva. Avete per esempio in uno specifico cosa? In uno specifico tanto per dire io ho proposto al primo a Rutelli tanti anni fa di fare un parcheggio per il centro. L'importante per me è che il centro rivivesse. Che significa? Il centro ha bisogno di parcheggi perché la gente si muove preferibilmente con le macchine anche questo è un problema da esaminare. Perché l'uomo ha bisogno della macchina? perché si sposta impropriamente. Da che hanno fatto l'obbligatorietà degli affitti? Hanno fatto male non dovevano toccare l'economia degli uomini hanno fatto un'economia di Stato per cui a un certo punto la gente non ha potuto abitare più dove voleva perché nessuno poteva più affittare. Qui ci troviamo un problema piuttosto molto grave me lo ricordo adesso però ve lo voglio dire. C'è una legge strana che da un canto viene da un principio sociale giusto da un canto però è andato oltre la misura se una persona ti si infila dentro casa dentro casa tua che hai pagato il notaio tutte le procedure che ci sono i costi e a un certo punto non vuole uscire tu non la puoi mandar via ci sono interi stabili che sono stati occupati da tante famiglie bisognose per carità però qui ci troviamo di fronte ormai all'occupazione forzata e all'annullamento della proprietà privata che tu hai però non rubato hai guadagnato e lo Stato non fa niente questa è una cosa gravissima diciamo che posso dire una cosa c'è un caos no no parlavo all'Arapacis parlavo finisco adesso ho fatto questa chiosa questa parentesi perché mi interessa l'Arapacis allora l'Arapacis a parte l'Arapacis era un cubo di cristallo ad onore e rispetto di chi aveva fatto la vera Arapacis per cui tu la vedevi passavi e stava lì benissimo tranquilla sotto il sole e il marmo era ben protetto Rudelli è stato convinto non so da chi ci ho parlato giorni fa giù a Montecitorio che invece si scretolava che aveva grossi problemi qui la pietra intera e montagna sono fatte di calcare non c'è nessun problema comunque sia hanno fatto una specie di prigione dove hanno infilato l'Arapacis e in un posto archeologico come quello hanno fatto dei pilastri io ho assistito alle fondamenta ai lavori che sono stati fatti con tonnellate e tonnellate di acciaio e cemento e gli hanno costruito intorno quella specie di cosa spaventosa che sta lì senza nessun senso artistico né funzionale e anche diciamo pure brutto a un certo punto invece io precedentemente per quanto riguarda i parcheggi avevo detto a Rudelli avevo fatto una proposta semplicissima noi osserviamo le varie stampe del posto di Ripetta allora tu vedi come dal livello delle chiese quelle due chiese le prendiamo come base e dei palazzi intorno lì c'era la scalinata che degradava verso il Tevere prima ancora di tutti i lavori che sono stati fatti nel novecento a un certo punto ho detto la passeggiata di Ripetta è tutta terra di riporto allora noi che cosa facciamo togliamo tutta la terra di riporto togliamo quei quattro alberi che ci sono bellissimi ma li ripiantiamo non c'è problema a questo punto facciamo circa cinquecento seicento posti proprio lì in quel punto dall'ultima casetta del ponte da un ponte all'altro praticamente e senza spendere se non l'essenziale facciamo un parcheggio per cinque seicento posti che potrebbe essere diciamo uno sfogo per il centro perché il centro di Roma è una cosa bellissima bene Rutelli non mi ha ascoltato Veltroni non mi ha ascoltato finalmente c'è stato un assessore che mi ha ascoltato e ha presentato all'ultimo sindaco quello attualmente in atto che poteva essere una cosa interessante è vero avrebbero accettato che si potesse fare lì un parcheggio senza bucare i vari posti come avevano pensato ma vogliono fare un sottopassaggio non bisogna sprecare non bisogna sprecare bisogna fare le cose necessarie però finisco il primo non ha ascoltato il secondo non ha ascoltato e il terzo pure e il terzo non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta perché ha fatto piazza come si chiama la piazza della posta centrale sì ma ti pare che San Silvestro ti pare che in una città operosa come Roma tu mi vai a fare una piazza allora chi lo consiglia questo povero uomo che non è neanche che è intelligente è capace ma in solo c'è tanta gente le capacità vanno anche dimostrate dottor Di Biaggio ecco dottor Di Biaggio entriamo adesso nello specifico so che lei oggi ha portato un prodotto da presentare che comunque dà delle dà delle novità a cosa serve? ce lo esponga un attimo dal punto di vista della prevenzione sto provando questo liquido è un liquido fatto di molecole che si chiamano molecole redox sono delle molecole che sono state scoperte non tanti anni fa che permettono la comunicazione intracellulare del nostro organismo e quindi favoriscono facilitano tutti i processi antiossidanti quindi contro i radicali liberi che sono quelli che ci portano alle malattie all'invecchiamento è l'unico prodotto esistente attualmente in commercio perché sono delle molecole altamente reattive nel giro di frazioni di secondo si disattivano e il nostro organismo è capace di produrle queste molecole perché noi siamo fatti di acqua e le nostre cellule le producono in grandissima quantità però il tempo porta all'invecchiamento dovuto al fatto che queste molecole man mano che passa vengono prodotte sempre di meno la ditta che produce questo liquido è una ditta americana che è l'unica al mondo che è riuscita a stabilizzare queste molecole a lungo quindi è possibile introdurle come un integratore alimentare sono americani o mi faccia soffrire qualche italiano che è dovuto immigrare in America per poter sviluppare la ricerca è un fisico molecolare che è riuscito dopo lunghi anni a mettere a punto questo processo per poter stabilizzare delle molecole instabili che altrimenti non sarebbe stato possibile riuscire ad assumere dal punto di vista alimentare quindi è comunque una soluzione di stabilità ecco è una soluzione di stabilità e prevenzione all'interno del nostro organismo si trasforma in queste molecole che permettono a noi di migliorare il nostro stato di salute fa parte della prevenzione e noi medici abbiamo a disposizione i farmaci per curare le malattie quando vengono oppure la cultura quindi insegnare alle persone come comportarsi o utilizzare delle sostanze che siano quanto più naturali possibili per poter migliorare e rendere il nostro organismo capace di difendersi dagli attacchi dell'inquinamento del cibo spazzatura dello stress psicologico e tutti quei fenomeni che comunque aumentano la quantità di questi radicali liberi i radicali liberi per esempio sono delle molecole che sono state la teoria dei radicali liberi è stata fatta nel 1956 da professor Barnum dell'Harvard University che però ha avuto il premio Nobel per la medicina nel 96 quindi ci ha messo 40 anni affinché questo studio fosse conosciuto dal mondo accademico e in generale tant'è vedo che adesso tutte le riviste parlano di radicali liberi i medici che si sono laureati prima di quella data di queste cose non ne sanno nulla i professori che insegnano all'università che sono ancora precedenti dei medici che si sono laureati anche di questo non ne sapevano nulla fino a che poi il premio Nobel non ha permesso la comunicazione e la gestione di queste informazioni fruibili da tutti c'è una cosa che c'è invece interconnessione invece volevo tornare sull'interconnessione so che lei è un esperto di nutrizione e quindi so che c'è un'interconnessione forte anche con i compiti dell'amministrazione capitolina perché invece nella definizione e questo per alcuni casi perché ho seguito dal punto di vista giornalistico le dinamiche degli asidi nido della scuola dell'infanzia e altro cioè in realtà quando tu realizzi una struttura dell'infanzia o che sia un nido o che sia una materna devi avere all'interno un nutrizionista cioè anche lì c'è tutto un percorso che cosa si sta facendo dal punto di vista diciamo così la nutrizione per i nostri bambini ecco i bambini vanno da 2-6 anni allora io premetto che io non mi interesso di politica per cui non sono addentro a questo argomento no 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 ma dal punto di vista del medico dal punto di vista medico la medicina comunque riceve le informazioni da un sistema industrializzato che pilota le informazioni stesse per cui ciò che potrebbe essere utile non viene fatto passare per motivi economici prettamente economici per cui chiunque dice qualcosa che vada contro questi interessi viene tacciato di essere un millantatore un fanfadone un qualcuno che deve essere allontanato una cosa volevo dire esistono questi prodotti naturali come questo della sea che produce molecole dedox ma altri che sono prodotti antiossidanti naturali che non hanno nulla di chimico all'interno le cui ditte vendono questi prodotti attraverso un meccanismo che potrebbe essere veramente anticrisi perché le persone acquistando il prodotto tramite internet entrano in un meccanismo che viene studiato dalle università di economia ma che in Italia non conosce nessuno che io trovo che sia assurdo una cosa di questo genere perché se una persona stimolata da un altro compra un prodotto e con quel prodotto facendo un passaparola né più né meno che come quando fa pubblicità per esempio a un ristorante dove è andato a mangiare bene oppure un libro che gli è piaciuto un film che gli è piaciuto tantissimo gli altri vanno a vedere il film vanno a comprare il libro vanno al ristorante a mangiare ma né il ristoratore né il libraio né il gestore del cinema sa che quella persona ha fornito quell'informazione esiste questo meccanismo economico per cui invece comprando qualcosa da internet la ditta che produce quel prodotto viene venduta un'altra persona sa che è passata attraverso un intermediario che ne ha parlato bene e quell'intermediario viene mi ha stimolato per dopo una domanda rosso proprio su questa dinamica qua sicuramente collegandola al turismo di Roma ecco come dinamica e potrelli cosa voleva volevo aggiungere questo il dottor ha perfettamente ragione il corpo umano funziona in una maniera estremamente interessante e meravigliosa se noi entriamo in questo concetto della trasmissione andiamo a vedere che nel 1996 all'università di Seul è stato presentato uno studio importantissimo sulla comunicazione intercellulare noi siamo per il numero di molecole per il 92% di acqua il resto quindi siamo molto bolle d'acqua l'acqua può essere modificata e può essere energizzata utilmente agli scopi benefici per l'organismo noi dobbiamo considerare che questa bolla d'acqua che è il nostro corpo ha due tipi di inquinamento spaventoso la prima viene dal fatto che non viene lavato sufficientemente perché ciò che mangiamo non è puro come ho detto poco fa tra il pane il pane per dire ma per tutto il resto il processo industriale della fabbricazione del cibo non va bene non possiamo mangiare biscotti fatti a macchina così perché i residui ionizzati del metallo al cui viene a contatto inquinano noi non sentiamo più i sapori questo è il grande contrasto tra l'artigianato e l'industria su alcuni beni ci sono soltanto il tentativo di avvelenare l'uomo perché sia capace di capire e non capace di capire c'era un bellissimo film americano lei mi provoca e poi mi fa subito replicare però è anche vero che come dice lei si è industrializzato il tutto nel settore dell'alimentazione dall'altra parte la vita è aumentata è aumentata la vita ma se vogliamo far lavorare la gente facciamogli fare i biscotti veri questo è un altro discorso sulla qualità abbiamo visto pur industrializzandola la vita media si è allungata fatemi tornare non è vero non è vero il concetto che ha fatto prima a quartieri è interessante così ha detto ok si è allungata però è anche vero che va fatto uno studio di quanta di questa vita residua poi è vissuta con delle problematiche patologiche molto importanti però poterli facciamo sempre il nostro giro russo ero stuzzicato dal fatto che in realtà di Biagio ne parlava da un punto di vista commerciale generico collegando a quel effetto positivo che ha su questo prodotto che si può acquistare via internet biologico e altro però in realtà Roma un po' quello che esce su internet su Roma com'è? cioè potrebbe essere un positivo o un negativo cioè guidato bene cosa si dice di noi all'estero? ecco cosa si dice di questa città? i servizi che offre la città le possibilità io una cosa del quale resto impressionato è che l'offerta culturale di Roma è bassa molto ma molto bassa cioè se tu chiedi a uno straniero a Roma cosa ha visto la maggior parte dei turisti stranieri ti sanno identificare quei 4-5 siti o 4-5 opportunità e poi non te ne sanno elencare nessun'altra il Colosseo poi gli imperiali le catacombe cioè San Pietro cioè i musei vaticani cioè tiziriscono quelli qua 6 mete e altro e poi è finito è finito l'offerta culturale di Roma io da romano dico cioè questo è impressionante cioè non è vero però è anche vero che non c'è offerta turistica la pubblica amministrazione non fa nulla il privato che deve vendere il turismo non fa nulla cioè tutti ci andiamo a soprapporre su un'offerta di turismo ristretta limitata e nessuno prova a costruire nuovi percorsi turistici su quello che è Roma esprimo lo stesso concetto che riguarda il lavoro il professor Di Biaggio fa il medico ha una sua specializzazione il medico non è il medico ha una sua specializzazione il turismo a Roma per la complessità e per la storia che ha a Roma non è il turismo sono i turismi è il sistema turismo noi abbiamo il turismo religioso il turismo di massa il turismo fieristico congressuale culturale abbiamo una serie di pezzettini che messi a sistema fanno il sistema turismo noi siamo il paese che bagnato per tre lati dal mare qualche anno fa è andato al referendum per abolire il ministero della marina mercantile siamo il paese che avendo ancora una grande vocazione agricola tanti anni fa siamo andati al voto per abolire il ministero dell'oram dell'agricoltura siamo stati il paese che per referendum ha abolito il ministero del turismo allora io dico attenzione ad andare ad inseguire queste facili emozioni o emotività che ogni tanto spuntano in Italia perché noi all'epoca andammo a votare sulla base di uno stesso identico sentimento che era legato alla deburocratizzazione e alla riduzione di qualche costo abbiamo perso un'occasione gigantesca di utilizzare un'amministrazione in maniera intelligente dal mio punto di vista dal nostro punto di vista ritengo che oggi bisogna mettere a sistema l'amministrazione capitolina con gli operatori quelli che operano tutti i giorni nell'ambito del turismo e creare delle condizioni di pacchetto delle condizioni di filiera bisogna mettere a sistema le esperienze perché industrializzare il turismo significa creare delle condizioni di catena di montaggio dei percorsi che siano specifici noi abbiamo una città che ha duemila anni di storia e che fino ad un certo punto è cresciuto secondo un modello che si adattava alla realtà il diritto è nato a Roma i romani si estendevano in paesi stranieri e non colonizzavano ma procedevano con processi anche di affiliazione quindi era una città dinamica noi siamo arrivati allo spontaneismo abbiamo le aree dedicate ai giovani che potrebbero rappresentare un punto d'arrivo per il turismo giovane a livello europeo che a parte essere delle location spettacolari perché ce le hanno lasciate sono assolutamente cresciute in maniera spontanea soltanto grazie ad alcuni operatori che ci hanno messo buona volontà ma penso a San Lorenzo penso al Pigneto penso a Rione Monti penso alla zona dell'Ostiense noi vorremmo trasformare queste piazze in luoghi in cui la gente va in cui il genitore che sa che il figlio frequenta sta tranquillo in cui l'arredo urbano è finalizzato a quel tipo di utenza in cui le iniziative e gli eventi che vengono fatti siano iniziative ed eventi attrattori non soltanto per i romani ma anche per l'estero e voglio dire una cosa in più noi viviamo una caratteristica che per tanti anni ci ha in qualche modo condizionato Roma era una grande città è una grande città ci siamo sempre in qualche modo avvitati intorno al concetto del mercato interno quindi anche alcune produzioni penso all'area dei castelli del vino qualche modo la produzione veniva assorbita dal mercato romano non c'era bisogno di ragionare in termini extra regionali o addirittura internazionali noi dobbiamo anche riappropriarci di questa capacità oggi io dico una cosa rispetto ai candidati a sindaco ed è l'unica critica che mi permetto di fare agli altri noi pensiamo a quello che vogliamo proporre a realizzare e non a criticare gli altri oggi tra i tre sindaci ed escludo il grillino per ovvie ragioni e si capirà adesso dal perché noi abbiamo bisogno di un sindaco che sappia rappresentare questa città a livello internazionale che ne sia un'immagine non l'immagine però come ha tentato di fare la sinistra di criticare il belloccio o di criticare il campione internazionale di sport noi abbiamo bisogno dell'uomo imprenditore impegnato nel mondo imprenditoriale a livello internazionale perché questa città per poter fare queste cose ha bisogno di riappropriarsi di un'identità di alto valore noi siamo stati in grado nell'arco di questi ultimi cinque anni di provincializzare una città cosmopolita come questa noi siamo stati in grado di criminalizzare lo straniero invece di pensare che lo straniero potrebbe essere una risorsa per Roma come lo è stato duemila anni fa per questa città gli ultimi imperatori romani non erano romani gli ultimi imperatori romani erano tutti stranieri sono stati ispanici sono stati nordafricani i papi non erano romani quindi questo tipo di capacità questa vocazione di essere una città aperta noi dobbiamo riaverla l'ingegner Bottarelli Bottarelli faceva riferimento alla necessità di avere parcheggi noi abbiamo bisogno di due tipologie di parcheggi quelli di scambio perché la gente deve recuperare una qualità della vita non può passare due ore della propria esistenza tutti i giorni in macchina deve scambiare dobbiamo dare la possibilità ai romani di conoscere il sistema dei trasporti che esiste sfido chiunque ad interpretare la mappa all'interno della metropolitana delle ferrovie metropolitane di Roma che collegano Roma ma ci vuole veramente la laurea in ingegneria forse Bottarelli è in grado di capirla io francamente faccio fatica eppure noi abbiamo la possibilità di andare dalla Tuscolana alla Numentana senza aver bisogno della macchina attraverso la ferrovia metropolitana sono 15 anni che esiste non lo facciamo per quanto riguarda le aree centrali è una mia battaglia personale le caserme vuote dell'area di Prati utilizziamole perché gli spazi a terra possano essere messi a disposizione come parcheggio utilizziamo le aree pubbliche che ci sono almeno da questo punto di vista poi la valorizzazione dell'immobile nel complesso arriverà dopo ma utilizziamo gli spazi che abbiamo per andare a tamponare un'emergenza vera poi esistono interventi strutturali sugli interventi strutturali c'è bisogno ovviamente di progettualità c'è bisogno di compatibilità con l'ambiente con il sottosuolo con l'archeologia romana c'è bisogno di risorse però questa cosa è vera la cosa che mi ha impressionato a me negli ultimi vent'anni diciamo così di amministrazione di Roma mi ha impressionato la scelta sistematica di non costruire una città per la qualità della vita dei suoi abitanti nel senso che questa cosa qua a me mi ha impressionato cioè non è fatta non viene fatta la stima potrebbe essere semplice si potrebbe fare una valutazione di stima nella qualità di vita dei cittadini facendo ripartire da quartiere a quartiere cioè nel senso chi abita in questo quartiere se lavora al centro che condizioni si trova se lavora in periferia in che condizioni si può trovare intorno a questo quartiere che tipi di servizi sono presenti che tipi di servizi mancano nel senso che anche quando viene fatto un piano regolatore generale la progettualità è sempre di quella di carattere cementificativo cioè si promuove come cementificare senza dar fastidio più di tanto agli ambientalisti come cercare di mettere un po' d'accordo tutti da un punto di vista palesemente economico sappiamo il giro di mazzette che c'è interno dell'assemblea capitolina nel momento in cui bisogna dare cubatura territori invece che altri che poi per la magistratura sarebbe semplicissimo trovare identificate il proprietario dell'area dove viene data la cubatura poi da lì alla mazzetta ci si arriva subito velocemente non è che abbiamo difficoltà da questo punto di vista allora ecco perché non viene fatto questa riflessione perché Roma è grande distesa ci sono dei quartieri densamente popolati altri quartieri meno densamente popolati però in realtà uno studio quartiere per quartiere ecco da questo punto di vista secondo me non è fatto non c'è e qui secondo me purtroppo con mio rammarico vorrei una discontinuità cioè se io dovessi oggi chiedere e quindi farvi convincere un candidato sindaco la prima cosa chiederei è discontinuità perché penso che i romani alcuni lo sappiano altri no però si arriva ad amministrare Roma e in realtà quello che si realizza nei primi 3-4 anni è quello che è progettato dal sindaco precedente cioè in realtà è che tutti i sedi e in realtà identifichi questo ma non ma non per obbligo non è un obbligo alla fine devo dire la vita che secondo me è proprio l'incapacità di quelli che abbiamo avuto come sindaci poi ognuno ci mette un paio di situazioni propriamente sue no cioè identifica un paio di progetti propriamente suoi e cerca e li spinge e cerca di realizzarli allora io dico che Roma secondo me siccome non è stata ancora sviluppata con i giusti le giuste linee guida io dico il prossimo sindaco deve tagliare i punti col passato cioè deve dire quello che c'è prima non mi interessa oggi c'è una qualità professionale ingegneristica progettuale cioè abbiamo il top del top a livello anche romano senza bisogna andare in America per fare questa benedetta teca che ci deve tenere in conservazione questo oppure casomai qualche romano qualche qualcun altro che a Roma costruisce se inventa ma andiamo casomai in America a fare ste nuvole o a mettere su in piedi queste altre situazioni allora cioè qui il problema è che bisogna tagliare come il passato e d'altra parte bisogna lanciare cioè lanciare una progettualità sulla qualità della vita delle persone cioè vorrei sentire vorrei fare una sorta di referendum progressivo dove anno dopo anno sempre più romani dicono assolutamente ho cominciato a riappropriarmi della mia città il paradosso è che i romani non vivono più la loro città perché la loro città per loro è uno stress non ci stanno gli asiniti le materne quindi devo capire come avere dei figli devo capire come probabilmente gestirmi questa situazione oppure è economicamente eccessivo gestirmi il fatto di trovarmi una struttura privata e altro cioè io ho difficoltà ad andare sul posto di lavoro tutta sta gente in macchina ma quanti ne vediamo in macchina che si fanno dei lunghissimi lunghissimi percorsi perché questa montagna di romani che per andare nel posto di lavoro dove stanno dentro otto ore otto ore all'interno dello stesso ufficio devono spostarsi in macchina dovrebbe essere quasi un reato cioè un reato da condannare con stazione amministrativa dove abiti dove lavori come ci vai con la macchina multa punto ma come non ho fatto niente multato a prescindere io multo il tuo comportamento perché tu devi andare otto ore in un ufficio qual è il senso di spostare un'automobile cioè io capisco quello che fa la gente commerciale e deve dalla parte girare otto appuntamenti poverino chissà in quale otto punti di Roma io quasi quasi a quello gli tollero l'autorizzazione e la circolazione della macchina ma quello che deve andare vedete questa è la qualità della vita cioè io devo fare una scelta di comportamento cioè io lì sono un buon amministratore cioè faccio un tipo di valutazione allora russo cioè si può fare questa cosa possiamo finalmente analizzarla lo sviluppo di Roma sul romano sull'abitante di Roma cioè questo è possibile farlo io dico questo spero che i romani sappiano cogliere la sensibilità con cui certi messaggi vengono trasferiti noi stiamo utilizzando contenuti in linguaggi diversi cos'è Roma? Roma è la stratificazione di una serie di quartieri Roma non è municipi e Roma non è Roma sono microcosmi diversi alle volte interconnessi tra loro Alfio Marchini è partito da questo tipo di consapevolezza partiamo dai quartieri sì ma nei quartieri ci vogliono i servizi sì ma in ogni quartiere c'è un presidio la scuola è presente ovunque la scuola come immobile può essere utilizzato la mattina per fare scuola e il pomeriggio per essere punto di aggregazione nei quartieri non è vero che i nostri quartieri sono abbandonati dobbiamo ottimizzare creare delle condizioni di integrazione i flussi ovviamente nell'ambito della città sono legati ai flussi lavorativi se ci fosse stata un'imprenditoria di tipo epoca etica come diceva il professor Sacca la gente si sarebbe in qualche modo organizzata per fare lavoro casa casa lavoro secondo dinamiche che forse in altre regioni italiane sono state costituite modello di insediamento industriale artigianale modello di insediamento abitativo perché nell'economia del tempo era necessario ridurre i tempi di stress delle famiglie allora partire da questa idea di quartiere da questa idea di qualità della vita di recupero del tempo per le persone non sono frasi fatte sono le cose che Alfio Marchini sta raccontando da dicembre adesso in qualche modo ne cominciano a parlare anche gli altri questa però è un'idea è l'idea di Roma il recupero di un'idea di una grande città che è fatta di tante diversità che devono convivere insieme per mantenere una città grande e vivibile adesso voglio chiedere agli altri tre ospiti un'idea per uno partendo da una cosa che ha detto Russo che mi sembra di aver intuito allora sappiamo le nostre scuole le nostre scuole sono degli edifici enormi che hanno costi mautentivi grandissimi e altro e se assistiamo al paradosso che vengono utilizzate 5-6 ore 7 al massimo e poi chiuse abbandonate aspettando il giorno dopo su un arco io non dico di 24 ore si potrebbe anche pensare su un arco di 24 ore allora dal punto di vista del lavoro cosa ci si potrebbe fare in queste scuole? no io permetti che torno veramente all'idea che è un po' ossessiva da parte mia ma è no 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 rispondi alla mia domanda perché stiamo chiudendo la smissione voglio chiuderla su questa un'idea sul lavoro come si sta vedendo negli ultimi interventi la questione ci vuole una filosofia della vita insomma una concezione della vita la scienza di per sé da sola non basta se non è governata da una concezione della vita ad esempio la concezione della vita della prevenzione è una concezione della vita cioè non è il fatto solo è l'idea che tu la salute la puoi prevenire prima che hai i sintomi che possono ora la stessa cosa è per la società è la prevenzione ad esempio dei problemi che possono nascere dalla robotica dall'eccesso di tecnologie eccesso per la disoccupazione che si può fare insomma che vogliamo fare della vita vogliamo fare un'economia la quale ha come filosofia il profitto a tutti i costi che può creare ampia disoccupazione sotto occupazione o vogliamo fare una società in cui si dà il massimo possibile di occupazione alla gente e permettere che questa gente abbia del tempo libero per vivere ecco questa è la domanda e la scuola ovviamente se tu hai una filosofia in cui l'individuo non lavora otto ore al giorno perché se lavora otto ore al giorno credimi dal pomeriggio non può andare a scuola vedi questo è il punto cioè bisogna vedere la filosofia dell'esistenza fino ad oggi abbiamo una filosofia dell'esistenza di questo tipo lavora il più possibile goditi meno possibile gli anni che si sono sempre più ridotti ma vi rendete conto dell'assurdità cioè abbiamo il massimo di tecnologia il massimo di scienza e la gente la si fa lavorare qui sulla soglia della morte ma è la follia è una contraddizione in termini cioè bisognerebbe far lavorare la gente fino a 50 anni fino a 55 anni dico io che dobbiamo essere brevi questa qua si chiama la filosofia delle formiche che lavorano e la cicala che canta professor Votarelli queste scuole intorno alle tre sono vuote che ci possiamo fare in queste scuole allora io nel 71 insegnavo radioelettronica quindi ho avuto una certa esperienza c'è stato un momento intorno al 68 che si è modificato quella filosofia di vita che ci consentiva di mettere le cose in una maniera accettabile che cosa ci facciamo delle scuole ma che cosa ci facciamo delle città la città a livello termodinamico non è possibile qui nelle città facciamo lavori pressoché inutili parliamoci chiaro cominciamo a dire il vino quello di cui parlava dei nostri colli meraviglioso da secoli a un certo punto se non lo prendiamo lo lasciamo al sole rimane qui se stesso non è più è un corpo morto quindi noi abbiamo il pane che fa schifo di prima e il vino che invece è pieno di solfiti bisolfiti e cose nuove che si inventano tutti i giorni per cui il vino non nutre e allora si ammala allora il medico interviene qui c'è qualcosa che non funziona vi avviso e vi dico in anticipo una cosa dalle analisi che ultimamente stanno riscontrando non è la prima volta che noi abbiamo raggiunto questo livello tecnologico questa non è fantascienza la glaciazione a 22 mila anni fa ha cominciato 12 mila anni fa è finita noi abbiamo semplicemente un'idea molto vaga di quello che è successo da 12 mila anni a oggi noi dobbiamo pensare che invece la civiltà tecnologica sbagliata perché non c'è un sufficiente conoscenza scientifica vera come diceva i quartieri prima noi abbiamo saliamo il percorso tecnologico e poi a un certo punto questo precipita se voi sentite le profezie degli opi non so l'avete letto un po' tutti quanti il grande spirito il manetuno dice ci ha consentito di non perire tutti ma ci ha rimandato indietro nelle caverne quindi sostanzialmente perché abbiamo sbagliato ora bisogna capire che cosa abbiamo sbagliato perché noi tutti i giorni facciamo il nostro lavoro a testa bassa diciamo che praticamente l'uomo come ho accennato l'altra volta è un robot protocollare i progettisti dell'uomo della struttura bionica dell'uomo che è fatta di terra e acqua quindi quella che voi vedete è un cadavere riciclato parliamoci chiaro l'uomo è ciò che mangia e quindi dobbiamo dedicarci al 99% a quello che è il mangiare quindi dobbiamo fare un mangiare sano santo e benedetto perché noi ci troviamo di fronte a un mangiare che oramai è inquinato e avvelenando il corpo fa in maniera che noi dobbiamo necessariamente utilizzare i medici oltre la misura consentita per non avere le malattie le malattie come diceva poco fa sono un problema di squilibrio del sistema termodinamico interno quindi si inquina il corpo i sistemi di purificazione di cui ha parlato dell'acqua di energizzazione stavo dicendo nel 96 hanno scoperto i filamenti da 20 a 50 nanometri dove si trasmettono le informazioni a livello e sono tessuti di DNA distribuito fra cellula e cellula lo hanno ritrovato a Pechino su tutte le cellule del corpo lo hanno trovato a Hudson in Texas e qui non ne parla nessuno qui c'è qualcosa che non funziona noi dobbiamo sapere dove andiamo a finire per adesso ci sarà un incremento di caldo poi ci sarà un inquinamento tale per cui arriverà un'altra glaciazione non vogliamo arrivare qua un grande ammonimento anzi ringrazio il professor Vutarelli per concludere dottor Di Biaggio anche lei nessuno di due ancora ma però alle scienze bisogna lasciare spazio allora queste scuole occupate fino alle 15 e poi che potremmo farci? come dicevo prima importante è favorire la cultura quindi oltre all'insegnamento delle materie durante l'aerodario scolastico se queste strutture fossero utilizzate per insegnare ciò che ci serve a vivere quotidianamente ai genitori degli studenti che vanno lì quando magari un'ora adesso non so come potrebbe essere fatta questa cosa io penso di essere abbastanza fortunato nel senso che sono riuscito ad avere l'abitazione vicino allo studio per cui a studio ci vado a piedi la macchina per Roma non la uso mai utilizzo sempre i mezzi pubblici ma i mezzi pubblici a volte si dompono oggi per esempio stamattina venendo qua c'è la metro B completamente bloccata poi il traffico perché la gente utilizza la macchina come diceva prima se sta otto ore in un ufficio perché non prende l'autobus? perché non c'è cultura non c'è il senso del fatto che se noi ci stressiamo meno viviamo meglio e più a lungo e qui mi ricollego al fatto che possiamo migliorare il nostro stato di salute con la psiche utilizzando i nostri meccanismi psicologici che però se non vengono fornite le informazioni giuste nessuno riuscirà mai a capire come fare perché un conto è parlarne un altro è dire che faccio? Grazie dottor Di Piaccio per la sua presenza ho sforato grazie Ger Budarelli grazie a voi grazie a professor Zaccà e grazie al candidato Gianni Rusto con lista civica Marchini e grazie a tutti quanti voi avete avuto un'offerta politica valutatela grazie a tutti oh yeah that skinny man died of a big disease with a little name by chance